Mailboxis a Cava dei Tirreni, unica sede in via Vittorio Veneto 19, soddisfa tutte le tue esigenze. Non ci sono motivazioni di tipo tecnico per mantenere il numero chiuso a medicina. Lo afferma il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, nello spiegare la razio del disegno di legge per l'abolizione del numero chiuso, che oggi non consente di ammettere più di un certo numero di corsisti alle facoltà di medicina delle università in Italia. Questo almeno per quanto riguarda la prima selezione. Non sarebbe più rinviabile, come rende noto la regione in un comunicato stampa, una riforma in tal senso. E questo sarebbe dettato da una riscontrata diminuzione del numero dei medici. Ricorderete le polemiche fatte da De Luca stesso circa il tipo di quesiti proposti ai candidati nei test ad accesso. Tale disegno è stato già approvato dall'Aggiunta regionale con delibera del 6 settembre scorso e quindi dal Consiglio regionale con deliberazione del 12 settembre e trasmesso alle Camere. Ed è stato assegnato il 7 novembre alla settima Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Invitiamo tutte le forze politiche, dichiara tal proposito De Luca, a sostenere la proposta di legge della regione Campania. Nel momento in cui si registra una carenza drammatica di personale medico, è inaccettabile tenere in piedi ostacoli di accesso alla facoltà di medicina, non legati peraltro a nessuna valutazione di merito. Così come è intollerabile un sistema di quiz che sta spingendo verso forme di depressione e disagio mentale decine di migliaia di ragazze e ragazzi. Non ci sono motivazioni tecniche per mantenere il numero chiuso e in ogni caso ogni selezione va fatta dopo i primi due anni, ma sulle materie sanitarie, non su argomenti che nulla hanno a che vedere con la medicina.